Abbiamo sempre affermato che sui cambiamenti necessari dell'architettura istituzionale italiana è opportuno che tutte le parti in campo si cimentino nella ricerca di un accordo. Tra l'altro è successa questa cosa, che noi nella passata legislatura modificamo la Costituzione con quattro votazioni, due alla Camera e due al Senato e facemmo delle modifiche nella direzione di dare più poteri al Presidente del Consiglio affinché i processi di formazione delle leggi passassero da una sola Camera per una riduzione forte del numero dei parlamentari. La sinistra provocò un referendum abrogativo e convince gli italiani ad abrogare queste nostre modifiche. Adesso la sinistra dice che queste cose che loro hanno contribuito a bocciare sono invece necessarie. Se hanno cambiato opinione e sono venute dalla nostra, per me sarà un piacere sedermi ad un tavolo con loro e decidere di varare insieme questo ammodernamento del nostro Stato. Perché poi, vabbè, anche lo stesso Veltroni dice Obama qua, Obama là, Sarkozy qui, Sarkozy lì, piuttosto che altri esponenti politici, Zapatero di qua e di là. Ma sono tutti leader che hanno un forte potere decisionale o, con questa parolaccia, perché poi si rifà sempre ad altre epoche storiche del nostro Paese, decisioniste, come se fosse un elemento deteriore il decidere comunque sui problemi del Paese. Lei si sente di dire affronteremo la riforma, diciamo, dei poteri del Presidente del Consiglio perché possa decidere senza lasciarsi in qualche modo tarpare le ali da condizionamento. È necessario, è indispensabile. Mi hanno chiesto un giornalista straniero che cosa invidiava Sarkozy e gli invidiavo la possibilità di portare avanti le decisioni che assume, magari passando una notte ad occhi aperti per riflettere sulla decisione più giusta. Senta, Presidente, c'è stato un gran polverone sulla questione all'Italia e lei è finito in qualche modo nel tritacarne della polemica elettorale o elettoralistica. Addirittura si è ipotizzato reati tipo l'insider trading, eccetera, eccetera. Lei ripete che esiste l'accordata di imprenditori italiani che potrebbero salvare quella che si chiama compagnia di bandiera. C'è. Allora, io mi sono sempre tenuto da parte sulla vicenda all'Italia, lasciando al Governo di trattare per trovare una soluzione che fosse opportuna. E la soluzione era la costituzione di un grande gruppo internazionale di cui facessero parte, con parità di ruolo, di dignità e di diritti, Air France, KLM all'Italia. Dopo sei mesi di trattative con un solo soggetto, che è Air France, ci si vede recapitare da Air France delle condizioni che ho definito irricevibili, inaccettabili, addirittura offensive per il nostro Paese, per cui non c'è una fusione a parità di diritti, ma c'è un'incorporazione di Alitalia da parte di Air France. Con alcune condizioni ulteriori, per cui il nostro Stato avrebbe dovuto ottenere il benestare d'Air France per stipulare degli accordi sul volo aereo, sul trasporto aereo con altri Stati. Un'altra condizione irricevibile era quella di dismettere il trasporto delle merci attraverso i cargo a partire dal 2010, cioè tutta una serie di cose che avrebbero sottratto al Paese la sua compagnia di bandiera, che ci colpivano nell'orgoglio di italiani, ma che ci colpivano negli interessi della nostra imprenditoria e del nostro sistema economico. Io immagino dove, e anche lei deve convenire su questo, dove Air France avrebbe portato quei turisti russi, cinesi, indiani, su cui si conta per un incremento del 50% del turismo nei prossimi anni, che hanno manifestato in plurimi sondaggi come loro primo desiderio per mettere a frutto il loro benessere nuovo di visitare l'Europa. Io le domando, e lei mi dà la risposta certa, quei sette giorni di presenza in Europa, dove li avrebbero fatti passare Air France? E allora, siccome il turismo è una parte importante del nostro prodotto, della nostra economia, io dico che l'Italia non può rinunciare ad avere una sua compagnia di bandiera, che tra l'altro è il primo promotore del turismo degli altri verso di noi, con i suoi uffici diffusi in tutto il mondo. E quindi io ho semplicemente rivolto un appello, agli imprenditori italiani affinché non consentissero questa svendita di Alitalia, che a me ha ricordato anche l'attitudine alle svendite pubbliche da parte di Prodi, si ricorda l'alimentare che vendeva De Benedetti per un quinto di quello che poi lo Stato recuperò a seguito del mio intervento potendo vendere a pezzi l'alimentare. E quindi io ho lanciato un appello agli imprenditori italiani per dire se avete orgoglio e interesse fatevi avanti a costituire un gruppo. Ho ricevuto moltissime telefonate e offerte, ho dato poi in carico a un'azienda di consulenze di tenere i collegamenti tra queste realtà imprenditoriali che si faranno vive, quando sarà il momento? Cioè quando? Quando si chiuderà, come io mi auguro che sia, la trattativa con Air France. Già un successo però l'abbiamo ottenuto, perché Air France è detta disponibile a trattare le condizioni che avevo definito irricevibili. Quindi un primo successo c'è. E devo dire che questo governo si è rivelato assolutamente incapace di operare una operazione così importante per il Paese come questa. Quindi io non... Tra l'altro su questo punto lei ha detto giustamente, l'hanno messa nel tritacarne. Quando mi hanno rivolto una domanda, ma se lei si rivolge agli imprenditori italiani e dice dovete mettere una fiche di presenza nel gruppo che potrà sostenere l'Italia e anche i suoi figli potranno essere chiamati. Io in quel caso ho detto ci sarebbe un dovere dei miei figli di dire anche loro sì. E hanno detto allora c'è il conflitto di interessi, le vuole speculare. Ho detto no. Allora a questo punto, dopo che ci sono state queste interpretazioni del mio gesto che era di pura generosità, io dirò ai miei figli, vietato fare una cosa di questo genere. E i giornali che stanno tutti dalla parte della sinistra hanno detto Berlusconi cambia parere, Berlusconi si smentisce, Berlusconi fa dei passi indietro. Ecco, questa è la stampa con cui noi abbiamo a che fare e la sinistra con cui abbiamo a che fare che mistifica come metodo, come sistema, sempre e comunque. Senta, una parte importante comunque del made in Italy è l'immagine che il paese dà di sé all'estero. Infatti i francesi danno di sé un'immagine molto particolare, sciovinista per così dire, ma difendono molto orgogliosamente il proprio particolare. Ora, di noi stiamo dando un'immagine devastante fra l'immondizia, adesso c'è pure la mozzarella di bufala, non so se lei continui a mangiarla oppure ha paura pure lei della diossina. Insomma, Presidente, lei ha molti contatti all'estero con imprenditori, con altri autorevoli esponenti politici. Cosa dicono del nostro paese in questo momento? Non ci credono che la situazione sia degradata a questo punto, ma che cosa vi succede? Le risultanze che ho di questa situazione sono drammatiche, preferisco non raccontarle, ma il danno che abbiamo ricevuto all'immagine, al turismo e all'economia è incalcolabile. Quindi il nuovo governo dovrà affrontare per primo questo tema e risolverlo, e dovrà illustrare a tutto il mondo il ritorno alla normalità di una città dell'arte come Napoli e di una regione bella come la Campania. Lei farà, se lei dovesse vincere, come lei ovviamente si augura e auspica, farà un ministero snello, solo 12 ministri mi pare, lo conferma? Sì, certo, in totale 60 tra ministri, viceministri e sottosegretari. Una parte importante... La metà di questo governo, che secondo le abitudini di sempre della sinistra, è stato un governo di piena occupazione del potere, a vantaggio dei propri uomini, delle proprie corporazioni, delle proprie clientele. Lei ha già qualche nome da dire in anteprima su Canalitalia? O è scaramantico? Sì, no, no, ho detto un nome soltanto, perché questo è molto chiaro, che è quello del professor Tremonti per il ministro delle finanze. Sarà sicuramente il ministero più... Uno dei ministeri più delicati, più problematici, perché, Presidente, molti italiani non ce la fanno più dal punto di vista economico e non riescono a sfangarla, non riescono a sbarcare il lunario. Cosa pensate di fare per loro? I pensionati e le persone che... E le famiglie di difficoltà.